Claude97 Grazie Inutili creature Avete inflitto al vostro porco Uno sputo che costa poco State succhiando l'olio di camel Da quel culo di mattoni che avete spiritualmente spirituato Come YouTube Meglio dormire per caccare Sesso violento dall'alito aglioso Avverto pericolo Giuda potrebbe essere nascosto Nel culo di vostra moglie Che attrae i nostri figli Da una sensazione strana Vorrei presentare a tutti In questa trasmissione che stasera chiamo Il Natale del Male Due Una miniera Grazie a tutti Grazie per la visione!